E' una storia straordinaria quella di Lech Walesa, l'operaio che si fece presidente di tutti i polacchi passando per un premio Nobel. E' elettricista, Lech Walesa si impegnò sin da ragazzo nella difesa dei diritti dei lavoratori ed arrivò a fondare il primo sindacato autonomo del blocco comunista dell'area sovietica Solidarnosc. Erano gli anni difficili, durissimi, degli scioperi nei cantieri navali di Danzica, in particolare il 1980. Karol Wojtyla era papa dal 1978. I destini di Valesa e di Giovanni Paolo II si erano già incrociati e continueranno a incrociarsi, tanto che la figura del papa condizionò moltissimo la carriera e sindacale e politica di Valesa che divenne nel 1990 il primo presidente democraticamente eletto in Polonia. L'anno prima, il 1989, era caduto, anzi venne abbattuto il muro di Berlino. Era un vecchio continente, il nostro, che aveva tanta voglia di diventare nuovo.